Il ritorno delle zone rosse nelle regioni del nord Italia riaccende i timori di un esodo verso le migliaia di seconde case in Versilia. Il rischio di vedere un déjà vu di quanto già avvenuto la scorsa primavera, a inizio pandemia, ha spinto il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, a chiedere un intervento chiaro. Il DPCM infatti consente a chi si trova in zona ad alto rischio il rientro presso abitazioni, domicilio o residenza, senza disciplinare la questione delle case di villeggiatura. Perché la Versilia è già molto stressata dal punto di vista sanitario, lo è stata anche in primavera, c'è il problema naturalmente del numero dei letti a disposizione Covid, c'è il problema della tracciabilità, c'è il problema dell'effettuazione dei tamponi. Ecco, continuare a stressare questa zona magari con persone che arrivano da altre regioni che non segnalano adeguatamente la propria presenza può veramente causare dei rischi. Per cui credo che sia opportuno, ripeto, che gli organi competenti riflettano su questo tema. Di avviso opposto la deputata versiliese di Forza Italia, Deborah Bergamini, che alla vigilia del Varo del DPCM aveva chiesto al governo di tutelare le seconde case, senza restrizioni per i loro titolari, suggerendo al contrario di incentivare i trasferimenti per alleggerire la pressione sulle grandi città e sulle zone più colpite dal contagio. L'accesso alle seconde case, secondo la parlamentare azzurra, consentirebbe inoltre ai positivi dello stesso nucleo familiare di poterci trascorrere la quarantena, tutelando gli altri componenti della famiglia.